Il titolo è un po' pretenzioso, la Napoli che verrà, questo è un titolo che dovrebbero fare le istituzioni, non le ferrovie. Le ferrovie devono parlare dei binari e delle infrastrutture della mobilità. Tema ovviamente decisivo, decisivo per Napoli, per la Campania, per l'area metropolitana. Complessivamente noi avremo nei prossimi anni in Campania 7 miliardi di investimenti per quanto riguarda le infrastrutture. 5 miliardi soltanto a carico della regione Campania e di EOV per i programmi di realizzazione di alcuni tratti della linea 1 e della linea 6 della metropolitana, nel completamento dell'anello, più tutta una serie di stazioni, più il rinnovo di tutta la circunvesuviana con un miliardo di investimenti e così via. Abbiamo ancora investimenti nelle aree portuali, nelle aree logistiche. Quello che manca ovviamente è lo sviluppo, è il finanziamento dello sviluppo, perché le infrastrutture sono al servizio dell'economia e dello sviluppo. Le infrastrutture hanno un valore in sé per quanto riguarda la mobilità, traffico, passeggeri, pendolari, ma è chiaro che le infrastrutture hanno un valore se dietro c'è lo sviluppo. E da questo punto di vista non c'è nulla. Abbiamo un governo sgangherato che tiene bloccati flussi finanziari decisivi per il Sud e per la Campania. Ho letto stamattina, e mi sono commosso per la verità, che il CIPES ha attribuito i finanziamenti, 9 miliardi di euro, a tante regioni d'Italia. Tranne Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. Cioè tranne tutto il Sud. C'è da rimanere veramente commossi o no? Ovviamente abbiamo anche una parte delle classi dirigenti del mezzogiorno che dorme in piedi. Nessuno parla, nessuno ha nulla a dire. Sono curioso di vedere questa mattina cosa dicono gli imprenditori di Napoli.